Buonasera, ben trovati con l'informazione di Udinews con questa nostra edizione notturna del telegiornale che apriamo con la notizia degli arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi a cui insieme a un terzo soggetto viene contestata l'emissione di fatture inesistenti. Le misure sono state emesse dal GIP di Firenze anche per il reato di bancarotta fraudolenta. I tre, secondo quanto si apprende, sono stati nel tempo amministratori di fatto di tre società cooperative, due delle quali dichiarate fallite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti all'interno di una delle società sarebbe avvenuta tra il 2013 e il 2018, mentre per la presunta bancarotta fraudolenta sarebbe stata commessa per le altre due società cooperative tra il 2010 e il 2013. Ho molta fiducia nella giustizia italiana, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, questo è il primo commento dell'ex premier. Matteo Renzi che tra l'altro era atteso questa sera a Torino alla presentazione del suo libro Un'altra strada, idee per l'Italia e idee per l'Italia di domani, questo è il titolo. Un incontro annullato appunto per i fatti accaduti, la cui comunicazione è stata data anche attraverso la sua pagina facebook personale. Come leggerete tra poco dal post che vedremo in sovraimpressione, tra le parole dell'ex premier appunto dice chi ha letto le carte mi garantisce di non aver mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato. Se io non avessi fatto politica la mia famiglia non sarebbe stata sommersa dal fango, dunque mi sento responsabile per il dolore dei miei genitori, dei miei fratelli, dei miei figli e dei miei nipoti. Sulla vicenda interviene il ministro dell'interno Matteo Salvini, l'arresto dei genitori di Renzi, niente da festeggiare. E a proposito di Matteo Salvini si è conclusa alle 21.30 la votazione online del Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti. Salvini salvo con il 59,05% dei sì è avvenuto appunto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere, a votare sì in 30.948 votanti, no invece per i 21.469 votanti. Una votazione con una partecipazione particolarmente alta. In 52.417 iscritti che hanno espresso la propria opinione, diventando così la votazione con il maggior numero di votanti di sempre in una singola giornata. E veniamo ora in regione, quest'oggi il TAR regionale ha respinto il ricorso della società Doppelmaier Italia e Sarelle contro la delibera della giunta regionale che nella precedente legislatura aveva revocato il pubblico interesse del project financing per la realizzazione e gestione dell'impianto di collegamento a fune tra Pontebba e il comprensorio scistico di Pramollo Nassfield. Una conferma del lavoro svolto dalla precedente amministrazione per la consigliera regionale del PD Maria Grazia Santoro. Si conclude così una vicenda che per molti anni ha impegnato la regione con ingenti risorse in ballo. Spiace, aggiunge la consigliera, che le risorse che avevamo appostato, tutte a favore della montagna, in particolare per gli impianti di risalita, si parla di 35 milioni per il rilancio dell'area di Pontebba e di 13 milioni, siano state fortemente tagliate e sparse in altri territori. Con l'auspicio che la nuova amministrazione riveda a favore della montagna e di Pontebba le risorse che si sono così definitivamente liberate. E ora la cronaca con un doppio assalto al Bancomat. Nella notte sportelli fatti saltare con l'esplosivo a Premariacqua e a San Vito al Tagliamento. Ad un mese di distanza ritorna in azione la banda dei Bancomat che nella notte ha preso di mira due filiali di altrettanti istituti di credito tra Premariacqua e San Vito al Tagliamento. Poco prima del luna di notte i malviventi si sono presentati alla filiale della Banca Ter in via a Fiore dei Liberi a Premariacqua. A dare l'allarme è stato un cittadino che abita nei paraggi e che ha segnalato all'112 la presenza di quattro persone che stavano armeggiando vicino allo sportello, fuggendo poi a grande velocità a bordo di una berlina nera. La banda ha fatto esplodere lo sportello causando gravi danni e sono riusciti a impossessarsi dei soldi depositati nella cassa. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia della vigilanza privata Italpol che ha poi presidiato l'istituto per tutta la notte. Sul caso indagano i carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo. Ed è stato probabilmente lo stesso gruppo a raggiungere sempre nella notte, poco meno di due ore dopo, la filiale della Civibank di San Vito al Tagliamento. Pure in questo caso è stato fatto esplodere il banco ma con le stesse modalità, ingenti i danni, sul posto sempre militari dell'arma e il corpo vigili notturni. Il 19 gennaio scorso medesime le modalità che portarono il gruppo criminale a fare razzia di denaro tra Tricesimo e Porto Gruaro. No ad allarmismi pronto, un potenziamento dei servizi di controllo nella zona e con l'arrivo del nuovo comandante della polizia locale in città accelereremo sull'acquisto dei nuovi impianti di video sorveglianza. Così l'assessore alla sicurezza Ciani in merito agli ultimi episodi di violenza in Borgostazione. Vediamo il servizio di David Zanirato. Sono episodi certamente gravi e preoccupanti che però si sono verificati dopo un periodo con risultati molto positivi. È evidente che i singoli episodi facciano un certo eco e abbiano risalto sugli organi di stampa e creino preoccupazione per i cittadini, questo è sicuro. D'altra parte però è anche vero che negli ultimi mesi c'era stata una situazione sicuramente migliorata grazie a una presenza notevole da parte delle forze dell'ordine che hanno incrementato i controlli e le presenze in questi territori. Quello che io posso dire è che stiamo lavorando per incrementare ulteriormente i controlli e le presenze da parte di personale specializzato in questo quartiere. Non voglio che vengano creati allarmismi perché se da un lato è vero che è un quartiere problematico, dall'altro la situazione è sicuramente migliorata. Abbiamo in piedi, questo è un tema a cui tengo particolarmente, un investimento molto molto importante sul tema delle telecamere. La regione ha finanziato con 400 mila euro un piano straordinario proprio che riguarderà questo quartiere. A breve prenderà il possesso del suo ufficio il nuovo comandante della polizia locale. Una delle prime cose che faremo è andare a confrontarci con le altre forze dell'ordine, proprio sui punti in cui installare le telecamere, quindi punti più delicati e più importanti che attualmente sono scoperti. Queste ovviamente sono valutazioni che aspettano ai singoli sindaci se richiede o meno la presenza dell'esercito. Personalmente richiedo che sia una presenza quanto mai efficace, nel senso che l'esercito ha le sue prerogative. Quando interviene su obiettivi sensibili e fissi non fa altro che liberare risorse di organico da parte della polizia di Stato, dei carabinieri che invece hanno altre peculiarità, altri compiti. Quindi la polizia può liberare quel particolare obiettivo sensibile lasciando il presidio dell'obiettivo all'esercito e la pattuglia in più è libera per fare le proprie attività di prevenzione sul territorio. Un'altra zona di Udine da Borgostazione ci spostiamo su Viale Venezia perché si va avanti con il progetto della prima rotonda. Una rotonda che sarà interamente pagata dalla Lidl. Il Comune ha inserito una serie di modifiche progettuali e ha conferma l'intenzione di realizzarne altre due lungo l'asse viario. Paolo Pizzocaro, Assessore Comunale all'Urbanistica per la rotonda di Viale Venezia. Il progetto è pronto? Come si interverrà? Diciamo che questo è un progetto di massima che è stato presentato dopo una discussione che abbiamo avuto nei vari incontri con la proprietà del Lidl. Quindi in linea di massima dovrebbe essere il progetto definitivo, tranne due piccole variazioni che abbiamo chiesto. Una è relativa all'accesso dai viali laterali a Viale Venezia che non vogliamo perché chiaramente c'è un problema di intralcio, di traffico. E un altro dalla parte opposta dove il problema è simile però è dedicato a delle case private che sboccano su Viale Venezia. In linea di massima c'è un marciapiede anche che deve essere allargato perché attualmente è di 1,20 m, bisogna portarlo a 1,50 m secondo normative. Per il resto diciamo che il progetto così come è stato presentato è ritenuto valido ed è concordo a quello che abbiamo patuito. La Lidl provvederà al totale pagamento di tutto il progetto e in più provvederà anche alla sistemazione in toto della sua sede, della Lidl che dovrebbe diventare ristrutturata completamente e quindi diventare un punto di riferimento molto importante per la città e per la zona. Sulle altre rotonde di Viale Venezia ci sono aggiornamenti anche poi vista le polemiche che c'erano state con la casa di cura città di Udine? Sì, no, diciamo che le altre due. Il progetto per fare le tre rotonde in Viale Venezia da noi viene comunque considerato e quindi man mano che adesso realizziamo la prima vedremo poi sull'incrocio di via Birago e sull'incrocio di via Firenze la possibilità di poterle realizzare così come è stata prospettata oppure trovando delle soluzioni alternative congrue alle pericolosità diciamo per risolvere la pericolosità degli incroci stessi. E parliamo ancora di rotonde perché questa mattina è stata inaugurata la nuova rotatoria di Reana del Royale all'altezza dell'Ixò. Il sindaco Canciani ha annunciato per marzo la partenza dell'esfaltatura lungo Viale da Vinci e la realizzazione di altre due rotonde lungo la superstrada Pontebana. Diciamo che è un intervento importante per la nostra comunità che è nato dalla sinergia del comune di Reana assieme all'amministrazione comunale del comune di Tricesimo. Grazie a un contributo che faceva parte del Prust siamo riusciti a riconvertire questo incrocio, questa intersezione viaria che era un punto critico per il nostro territorio. Il mio grazie va anche al già Presidente della provincia Fontanini perché anche grazie a loro un loro contributo siamo riusciti a completare questo intervento che ci mette in sicurezza anche dal punto di vista idraulico perché era un punto critico in occasione di eventi atmosferici. Non vi fermate qui perché tra breve si partirà anche con le asfaltature di Viale Leonardo da Vinci che serve alla zona artigianale industriale, altro intervento molto atteso. Diciamo che grazie a un contributo della Regione, ringrazio l'assessore regionale Roberti, il 4 di marzo prossimo inizieranno i rivoli di riqualificazione. Praticamente tutto via Leonardo da Vinci sarà completamente riconvertito, un percorso ciclabile, una asfaltatura e un intervento che è unito anche a due grosse rotonde che verranno realizzate da privati, quindi una sinergia pubblico-privata che dà lustro anche ai nostri imprenditori, oltre che ai buoni rapporti con l'amministrazione comunale, permetterà di riqualificare l'intera area industriale e commerciale, una delle più importanti sull'asse della Tresemane. Un finale imprevisto per una festa a Feletto Umberto dove un vicino di casa per chiedere di abbassare la musica si è presentato con una katana e poi c'è anche chi preferisce il carcere agli arresti domiciliari. Vediamolo nelle nostre flash news. È finita male una festa in casa a Feletto Umberto. Infastidito dalla musica troppo alta, infatti un vicino si è presentato alla porta chiedendo di abbassare il volume brandendo una katana. I proprietari hanno chiamato i carabinieri di Feletto che insieme ai carabinieri della stazione di Remanzacqua hanno identificato il 37enne responsabile del fatto. L'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato per minaccia aggravata e porta abusivo di armi. Preferisce il carcere che stare a casa in famiglia. I carabinieri di Udine Est hanno denunciato per l'ipotesi di reato di evasione una 27enne. La donna, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in seguito a un provvedimento del Tribunale di Udine, si è presentata dai militari chiedendo di essere collocata in un altro domicilio o di essere portata in carcere a causa dei conflitti con i familiari. In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria competente è stata riaccompagnata a casa. Acqua imbevibile ad Aviano, tanto da rendere operativo il piano di emergenza elaborato dall'amministrazione comunale e da Idrogea. Oggi in attesa della risoluzione del problema, che secondo il sindaco Ilario De Marco potrebbe richiedere molto tempo, sono arrivate una dozzina di cisterne per alimentare le tubature dell'acquedotto, distribuendo acqua nelle zone interessate dai problemi di odore e di sapore dell'acqua. Nebbia e traffico a rilento questa mattina in diversi punti dell'A4. Una visibilità a tratti inferiore a 100 metri che ha reso difficoltosa la circolazione. In direzione Venezia, tra il bivio di Palmanova e la Tisana, un auto articolato ha perso un pneumatico, causando, durante le operazioni di rimozione, code tra l'interconnessione dell'A4 con l'A23 e la Tisana. Inoltre, alle 8.30, poco prima dello svincolo di Palmanova, un incidente tra due auto in cui uno dei conducenti è rimasto leggermente ferito. Sul posto la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i sanitari del 118 con l'elisoccorso. Nello stesso tratto, un mezzo in panna e in corsia di sorpasso ha ulteriormente rallentato la viabilità, facendo sì che il traffico raggiungesse i 6 km di coda. Persistenti fitti banchi di nebbia tra San Dona e Porto Gruaro in entrambe le direzioni. Incidente stradale a Fagagna nel pomeriggio di oggi, verso le 16. Un'automobile si è ribaltata in via Udine. Alla guida del mezzo, un uomo, soccorso dal personale del 118, che ha rimediato alcune ferite giudicate non gravi. Per la bonifica della sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco. Parliamo ora di scuole e del problema della carenza di organi con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti. Rispetto al concorso per dirigenti scolastici, confida nell'emissione il ruolo di vincitori a settembre. A breve partirà anche il concorso per i direttori dei servizi generali e amministrativi. È una macchina che si sta muovendo anche sul fronte docenti e personale ATA, conferma. La regione è impegnata a sua volta a rafforzare l'ufficio scolastico regionale e integrare le risorse. Monica Nardini. Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, siamo a buon punto. Le commissioni stanno lavorando a livello centrale e diciamo che per marzo dovrebbero terminare le correzioni. Quindi auspichiamo dopo gli orali verso aprile e maggio e l'emissione in ruolo a settembre del 2019. Questa è un'ottima notizia perché abbiamo una carenza di dirigenti scolastici con uno scoperto molto importante in Friuli Venezia e Giulia. Il concorso per i direttori dei servizi generali e amministrativi partirà a breve. Adesso si stanno formando le commissioni. Avremo anche l'emissione in ruolo di diversi docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Poi si apriranno anche i concorsi per le superiori. Insomma, diciamo che è una macchina che si sta muovendo. Per l'ATA e per i docenti ci potrebbero essere già degli incrementi per il nuovo anno scolastico? Ancora è un po' prematuro dirlo perché proprio sono iniziate le interlocuzioni con la Regione. Infatti sono stata a Roma la scorsa settimana, dovrò probabilmente ritornare questa proprio per capire bene come siamo con i numeri. Però diciamo che lavoriamo con questo obiettivo sicuramente. La Regione sta lavorando a un tavolo a Roma, a cui già due mesi fa ormai ha presentato la prima proposta di convenzione. Per intanto rafforzare gli uffici scolastici regionali e mettere a disposizione risorse. È un percorso lungo che viene fatto, a mio avviso, su una scuola che per molti anni è stata lasciata in balia di se stessa e a cui noi stiamo cercando in maniera più veloce possibile di dare risposte anche con norme regionali e con la norma sull'istruzione che il Consiglio regionale ha appena approvato. La Regione sta lavorando sull'iter di regionalizzazione dell'istruzione, però in tal senso ci sono anche già delle proteste da parte per esempio di Agnef e Unicobas che per il 27 febbraio hanno in previsione una manifestazione nazionale. Temono questa autonomia differenziale? La temono rispetto a quelli che sono i percorsi che la Regione Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Sicilia stanno portando avanti. Per quanto riguarda la Regione Fluile Venezia e Giulia devo dire che dobbiamo sicuramente recuperare del tempo. Per quanto mi riguarda qualsiasi tipo di percorso di regionalizzazione inizieremo e io inizierò sicuramente dall'ufficio scolastico regionale e non dal personale delle scuole sarà fatto di condivisione con il personale delle scuole. E continuiamo a parlare di scuole purtroppo con notizie non positive per quanto riguarda le scuole di Artaterm. Infatti Luigi Gonano, il sindaco, ha firmato l'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole da domani, martedì 19 febbraio, a seguito delle analisi svolte su nuovi risultati emersi da ulteriori verifiche riguardanti la vulnerabilità sismica dell'immobile. Vediamo. Era il 14 gennaio quando il sindaco di Ampezzo, Michele Benedetti, decretò con un'ordinanza la chiusura della scuola del comune a causa dell'alto rischio di vulnerabilità sismica. Questa volta è toccato ad Artaterme. Lo stesso ITER, una domanda di contributo poi ottenuto dal MIUR tramite la regione per l'adeguamento antisismico della struttura, ma ulteriori approfondimenti hanno evidenziato una situazione in attesa, molto più critica di quella che si era presentata inizialmente, situazione che ha reso necessario il provvedimento di chiusura. Una scelta non semplice ma sicura e senza tentennamenti, in quanto dettata dalla necessità di garantire la sicurezza dei nostri bambini e di tutti coloro che hanno accesso all'edificio scolastico, commenta così il sindaco Luigi Gonano che quest'oggi ha firmato l'ordinanza che da domani comporterà la chiusura della scuola di Arta. Un'amministrazione che si è subito attivata per risolvere la situazione, chiedendo ed ottenendo dalla regione un ulteriore ed urgente contributo per ridare ai ragazzi e ai genitori per il prossimo settembre un ambiente sicuro. Nel frattempo, non appena gli spazi saranno fruibili, le scuole elementari si sposteranno nell'ex scuola elementare di Piano d'Arta, oggi sede della mostra permanente del fossile, mentre le scuole medie si sposteranno nella vicina sede dell'ex direzione didattica. Un'emergenza a cui la comunità saprà reagire, che inevitabilmente comporterà dei mesi di disagio, ma una scelta necessaria per evitare eventi, magari anche tragici, che purtroppo in passato hanno già colpito altre comunità. Il sindaco di Arta Terme ha sottolineato la tanta sensibilità dimostrata dalla deputata Aurelia Bibisutti, dall'assessore all'infrastruttura e territorio Graziano Pizzimenti e dalla dirigente del servizio di edilizia scolastica e universitaria regionale Rita Contento, che in pochissimo tempo hanno saputo dare ascolto e risposte concrete, nonché dalle squadre di protezione civile del neocostituito distretto carne orientale. E uno dei simboli del Friuli, ovvero il castello di Coloredo di Montalbano, sta risorgendo dalle ceneri del post-terremoto. Lo fa anche grazie ad altri finanziamenti in arrivo dalla regione, 7 milioni dedicati per lo più al secondo lotto riguardante il Mastio. Resta da approfondire la futura detonazione della parte pubblica della fortificazione. Vediamo. Assessore, domani la consegna del secondo lotto, quello importante dedicato al Mastio, la parte più antica del castello. Sì, assolutamente sì, soprattutto importante sia dal punto di vista fisico, perché è l'edificio più importante del castello, ma soprattutto perché è l'ultimo degli edifici da finire e da completare. Questo vuol dire che stiamo arrivando alla fine dell'ottio. La regione investirà ancora? Ma adesso non dico che spero di no, io mi ero ripromesso a luglio di portare gli ultimi 7 milioni per chiudere l'opera, spero che siano sufficienti, l'opera ha avuto, con gli ultimi 7 milioni siamo a 35 milioni e mezzo di opere, quindi vuol dire un lavoro enorme, mi pare che siano, e spero che siano sufficienti. Il risultato è una grande alleanza fra istituzioni e privati, fra amministrazioni e maestranze, fra professionisti e storici che hanno in qualche modo consentito di consegnare alla comunità regionale questo manufatto eccezionale che è un esempio per l'intero Friuli. Oggi la vera scommessa, nel momento in cui sarà completato nei prossimi anni, sarà quello proprio di renderlo vivo. Cioè che non sia un museo, non sia qualcosa nel quale abbiamo messo delle risorse che rimangono fino a se stesse come testimone muto di quello che è stata la storia, ma deve diventare un testimone attivo, parlante di quello che può essere una promozione del nostro Friuli attraverso questa struttura stupenda anche in termini di turismo, in termini di attività pubbliche, anche con la vita dei privati. Io spero che i privati che pure hanno all'interno di questo castello alcune residenze possano proprio viverlo direttamente, in modo che il castello torni a essere quello che era, un elemento, una piccola città nella quale si viveva, nella quale si nasceva, ci si sposava. Ecco, una cosa che serva come simbolo per il riscatto e la rinascita di questo Friuli Venezia Giulia che è stupendo e che è una regione che è veramente, come diceva l'Ippolito Nievo, il piccolo compendio dell'universo. Anni fa si era ipotizzata l'idea di fare qui la sede di promo turismo, potrebbe essere un'idea vincente? Io credo di sì, potrebbe essere che la struttura che è finalizzata alla promozione turistica del nostro territorio, avendo la sede qui, dico già parla, voglio dire questi muri, questa realtà parla della promozione del nostro turismo. Passiamo ora allo sport, si è da poco concluso il posticipo di Serie A fra Roma e Bologna 2 a 1, risultato finale, un risultato importante per noi in chiave classifica. In rete per i giallorossi al 54esimo Kolarov su calcio di rigore, mentre al 73esimo ha segnato Fazio. Per il Bologna invece all'84esimo è andato in rete Sansone. E allora passiamo alla nostra Udinese, una squadra che oggi si è riposata, riprenderà gli allenamenti da mercoledì e intanto si gode la vittoria contro il Chievo che gli permette dopo il risultato di questa sera di allungare a più 4 sul Bologna. Vediamo. Se la maledizione dal dischetto si allunga, l'Udinese può invece tornare a sorridere. La ribattuta di Theodorczyk sull'iniziale respinta dagli 11 metri vale per i bianconeri tre punti, pesantissimi. La portata è prettamente numerica per la classifica. In una corsa alla salvezza che vede avversari agguerrite e vogliose di non mollare il colpo. Ma la vittoria ha ulteriore valore nel morale per cancellare lo stress di un momento complicato tra problemi fisici e l'inevitabile tensione di uno scontro fondamentale per ripartire. Così si può inquadrare la prestazione contratta fatta di enorme sacrificio contro un Chievo Maidomo ma sbattuto di fronte ad un Juan Musso sontuoso in enorme crescita di confidenza e feeling con i compagni della difesa grazie anche alla quinta gara personale senza subire reti in stagione. E se il palo di Noiting era suonato come un campanello d'allarme di una sorte ancora avversa il VAR ha tornato quello che aveva tolto in altre circostanze andando a sanzionare la gomitata su Pussetto, un premio per l'argentino entrato a gara in corso con l'argento vivo addosso. Panchina da cui sono usciti altrettanto positivamente sia Ziglar che Teo che con personalità si è assunto la responsabilità della trasformazione. Il primo gol del polacco in Serie A può suonare come una svolta personale e di squadra. Per rivedere l'udinese in campionato bisognerà ora attendere due settimane paradosso del prestito dell'Olimpico al mondo del rugby e degli impegni di Coppa della Lazio. La truppa di Nicola tornerà al lavoro mercoledì pomeriggio disputando un amichevole sabato per mantenere il ritmo partita. La tipica sosta darà tempo al tecnico di valutare il recupero degli elementi dall'infermeria e di studiare al meglio come disporre la sua squadra per la sfida altrettanto importante in classifica con il Bologna considerando anche l'eredità del quinto cartellino giallo stagionale per Fofanà che costringerà allo stop per squalifica uno dei tasselli più impiegati del centro campo. E prima di salutarci come sempre uno sguardo alle prime pagine dei giornali che troverete se ne dico la domani a partire dalla verità che parla dell'arresto dei genitori di Matteo Renzi arrestati mamma e babbo Renzi dopo la svolta nelle indagini annunciata da questo giornale è arrivato il clamoroso provvedimento Laura e Tiziano ai domiciliari. Allora vengono contestate fatture inesistenti fermato pure massone. Il figlio annulla la presentazione del suo libro e delira un'umiliazione assurda vogliono colpire me. E ancora andiamo avanti un'altra prima pagina la prima pagina del giornale che parla del referendum online del Movimento 5 Stelle di Maio Salva Salvini 5 Stelle esplodono la base grillina non manda il ministro a processo movimento in crisi arrestati i genitori di Renzi. Andiamo avanti ancora con l'altra prima pagina quella del foglio dovremmo avercela. Non appena ce l'abbiamo pronta la mandiamo aspettiamo eccola qui il foglio che intitola il nostro caro Finkelfkraut ha sbagliato idea e stile elogiando i gile gialli bisogna saper scegliere il nemico maggiore e questa era l'ultima prima pagina che appunto abbiamo visto insieme questa sera per quanto riguarda il nostro telegiornale è tutto ovviamente come sempre c'è l'accade oggi di Guido Comirato. Il 18 febbraio 1972 nasce a Kampen in Olanda Handrik van der Weck che ricordiamo centrocampista dell'Udinese dal 1998 al 2000. In verità van der Weck un ragazzo simpatico era legato all'Udinese sino al 2002 ma ahimè fu costretto a chiudere anticipatamente la carriera per problemi di natura cardiaca. Ha iniziato a giocare nella squadra della sua città il DOS Kampen poi è passato al Zulle e in Serie B poi ha fatto il primo importante salto di qualità con il Willem II. Nel 98 come ho detto è passato all'Udinese il primo anno con allenatore Francesco Guidolin di gare ne ha disputate 7 debutando il 21 febbraio del 1999 in Udinese Bari finita 4 a 0 van der Weck è entrato al minuto 74 al posto di Valem. L'anno successivo ha fatto un salto di qualità con alla guida dell'Udinese Gigi Decagno e il 23 ottobre del 1999 segna il suo primo ed unico gol con la maglia bianconera. A Cagliari finisce 3 a 0 per i bianconeri. Quel giorno Muzzi e il castiga Matti è irresistibile ma è van der Weck a portare in vantaggio i bianconeri nel primo tempo con un calcio di punizione deviato da Beretta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.